Ieri a Pisciotte i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 24enne del posto indagato per maltrattamenti contro i familiari e conviventi. I carabinieri, allertati da una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 del reparto territoriale di Vallo della Lucania, sono intervenuti presso l'abitazione dell'indagato, dove era stata segnalata l'aggressione nei riguardi della madre e del fratello minorenne. L'arrestato è stato tradotto al carcere di Vallo della Lucania, in attesa della convalida dell'arresto da parte dell'autorità giudiziaria.